Non so perché nessuno ha potuto rispondere a questa tua domanda. Tutti lo sanno. Quindi hai optato per Vipassana. Questo significa che devi solo stare zitto e farla. Non fare questa domanda, quella domanda. Sai qual è il mio handicap? Vuoi saperlo? Questa domanda viene da Decent Divan. Wow! Rispettato Guruji, sono un buddista e praticante di Vipassana. Ho una domanda che ho fatto a molti insegnanti di Vipassana e ad altri guru, ma tutti hanno detto che nessuno può rispondere. In uno dei tuoi video hai accennato, e viene detto anche nel buddismo, che la rinascita è dovuta al nostro desiderio insoddisfatto o karma. Lo accetto, ma poi sorge una domanda. Supponiamo che io sia nato milioni di volte a causa del mio karma e desiderio, ma prima della mia primissima nascita non c'era niente corpo, niente mente, karma, desiderio e nulla di me esisteva. Allora, perché e come quella primissima nascita è giunta ad esistere? Ora, anche io mi faccio questa domanda su di te. Beh, no, tu sei un ragazzo decente, io sono fatto così, che farci? Portiamo questa domanda ancora più indietro. Non si tratta solo della tua nascita. Bene, la cultura yogica, ci sono delle teorie che spiegano sotto forma di storie dialettiche come Shiva fosse come Shava. Shava significa un cadavere. Era inerte. Energia fenomenale, ma inerte. Poi l'energia, o Shakti, venne e danzò intorno a lui, sopra di lui. Allora lui si è come svegliato. Beh, noi, sai, ce lo immaginiamo come un uomo e una donna. Ma non è di questo che parliamo. Inerte significa che non accade nulla, nessun riverbero. Nessun riverbero significa nessuna creazione. L'energia è stata introdotta. Il riverbero è iniziato. Da un semplice riverbero di base è diventato sempre più complesso. Man mano che i riverberi sono diventati più complessi, è diventata materia. La materia è diventata piccole molecole, sono diventate pianeti, i pianeti sono diventati molte cose, la vita è caduta, una varietà di cose. Conosci la teoria dell'evoluzione da lì in poi. La teoria dell'evoluzione inizia solo dopo che la vita è iniziata. O era all'inizio probabilmente, ma se torno indietro, la creazione stessa, potremmo non conoscere la traiettoria esatta di come è accaduta, ma sappiamo approssimativamente come è accaduta, anche secondo la scienza moderna. Quindi nel linguaggio scientifico moderno, la stessa cosa viene detta oggi, che se applichi dell'energia, nemmeno all'interno, solo intorno, suppone di creare il vuoto in un contenitore e di applicare dell'energia, non nel vuoto, solo intorno ad esso, dei protoni e neutroni virtuali scaturiranno. Ciò significa che la creazione inizia ad accadere. Protone, neutrone, devono semplicemente unirsi affinché un atomo accada. Una volta che un atomo è accaduto, la creazione è iniziata. Quindi, cose simili vengono dette nella scienza moderna. Non voglio entrare in nessuna teoria, ma ovviamente la creazione è iniziata da qualche parte. Da qualche parte significa che potrebbe non essere all'interno delle proiezioni della mente umana, in termini di tempo, perché non ne è uno. Ma nel sistema yogico ci sono state delle stime che ci siano state 84 creazioni, fino ad ora. 83 creazioni fino ad ora. Questa è l'ottantaquattresima. E fino a 112 cicli di creazione possono accadere. Oltre questo, la creazione sarà senza materia, solo pura creazione di energia. Ma stiamo parlando in termini forse di miliardi di anni o trilioni di anni, non lo so. Ma queste proiezioni vengono fatte. Beh, ovviamente è solo una teoria. Nessuno può provare o confutare nulla a riguardo. Ma sembra una teoria plausibile, perché i segni di 83 creazioni sono presenti nel nostro sistema, i vari aspetti della vita intorno a noi. i segni delle 83 e che questa sia l'ottantaquattresima sono presenti per coloro che lo osservano molto attentamente. Quindi tu, un ragazzo così decente, come sei accaduto? Beh, questa domanda non va lontano come l'ho portata io adesso. Dice, se non avevo sostanza karmica, come sono accaduto? Questa è la domanda. Beh, non hai bisogno di una risposta spirituale. Charles Darwin stesso lo ha spiegato. Eri una creatura unicellulare e poi sei diventato duecellule, poi sei diventato trecellule, poi sei diventato multicellulare. Ora diventi un po' di più. Solo un po' di più. decentemente meglio. E' accaduto uno sviluppo decente da una singola cellula. Quindi, nel processo dall'animale unicellulare, da un atomo a una molecola, adesso è un momento meraviglioso per fare questa domanda, perché c'è il virus? Un virus non è una vita completa. ossia dei proteine ed enzimi per renderla una vita. Ma non è ancora vita. Solo quando entra nella tua cellula ha una vita. Ma di per sé non ha nessuna vita. Solo una certa combinazione di proteine. Quindi, decent... Come? Dushant? Divan. Quindi anche tu eri pre-vita. Sei diventato vita. Sei diventato una vita sempre più complessa. La complessità stessa è karma. Il karma non è necessariamente... Anche ora, mentre sei seduto qui. Il karma non è necessariamente solo ciò che fai così. I pensieri che passano nella tua mente sono karma. Le emozioni che passano nella tua mente ora sono karma. Semplicemente un pensiero è appena passato nella tua mente. Hai guardato la persona accanto a te. Cosa? Perché lui è qui? Dovrebbe stare sul tetto con le scimmie. Proprio così, sai? A volte vengono dei pensieri così. Ci siete? Quindi questo karma è semplicemente accaduto inavvertitamente. Non causato da te. Causato dalle scimmie che ballano sul tetto. Quindi, siccome le scimmie sono andate lì, hai guardato questo ragazzo. Da un certo angolo ti è sembrato in un certo modo. Forse è l'illuminazione, forse è il modo in cui si era seduto, forse qualcos'altro. È un pensiero andato e venuto. Ora hai compiuto un karma che, da qualche parte, guardi un altro essere umano e pensi che sia una scimmia. Ora, questo non si fermerà qui, capisci? Ora lo hai guardato e hai pensato. Sei una scimmia. Il giorno dopo abbiamo cambiato il tuo dipartimento e sei nel dipartimento delle scimmie. Oh mio Dio, devo lavorare con questa scimmia oggi. continuerà. E se supponi che le situazioni siano messe così, che lui è il responsabile del dipartimento, devi lavorare sotto di lui. Devo prendere istruzioni da una scimmia come questa. Crescerà. Ed è così che sei diventato un razzista. Va bene? Perché inizialmente è solo un pensiero di passaggio. Poi, a seconda delle situazioni, come ti intrappolano, qui, lì, là, lentamente si moltiplica. Questo accade anche ad ogni altra creatura. Quindi gradualmente la sostanza karmica si accumula, si accumula, diventa sempre più complessa. Beh, chiaramente le scienze evolutive ci dicono che gli esseri umani all'inizio erano esseri umani molto semplici, mezzi piegati, un cervello molto piccolo. Non potevano pensare molto, sopravvivevano e basta, come qualsiasi altra creatura. Tutti lo sanno, vero? Quindi da lì costruisci il tuo karma. Non so perché nessuno ha potuto rispondere a questa tua domanda, lo sanno tutti. Forse pensavano che tu non fossi degno di risposta. Perché io sono uno sciocco tale. Non penso che nessuno non meriti una risposta. Perché non penso che nessuna domanda non sia degna di risposta. prendo ogni tipo di domande idiote da tutto il mondo. Quindi in questo momento stai sprecando il tuo tempo in modo molto indecente. Perché queste sono tutte domande vane. Perché essenzialmente il tuo domandare è diretto a chiunque siano non so chi siano le persone a cui fai delle domande. In qualche modo vuoi farne degli sciocchi. Ti interessa solo questo. Non ti interessa conoscere nulla su te stesso. Non ti interessa avere strumenti per la tua trasformazione o crescita. Hai detto di aver optato per vipassana. Vipassana significa nessuna domanda. Semplici istruzioni. Fallo e basta. Fallo, fallo, fallo. Perché questo è un processo che richiede perseveranza come qualità principale. Gautama insegnò vipassana a grandi gruppi di persone perché non c'era tempo di prepararli. Ogni giorno si spostava di villaggio in villaggio di città in città. Niente tempo per portare comprensione in quelle persone. Quindi nessun insegnamento nessuna domanda solo semplici istruzioni. Comprendi bene le istruzioni fallo e basta. Fallo, fallo. Lentamente ti trasformerà. È un processo molto un po' laborioso ma un processo fantastico che anche se non hai idea di cosa stai facendo se lo fai e basta lentamente trasformerà chi sei. Quando dico ti trasforma ogni aspetto di te compresa la tua chimica gradualmente si trasformerà. È un processo laborioso perché in quei tempi devi capire lui insegnava 2500 anni fa. 2500 anni fa la lunghezza d'onda comune della società non era la comprensione intellettuale. La lunghezza d'onda comune della società che vivevano delle vite dure era la perseveranza. La gente sapeva perseverare. Oggi per farli perseverare devi parlare loro per ore e ore e ore perché credono di capire tutto. In quei tempi la gente non aveva problemi simili. Sapevano di non capire. quindi dovevi solo istruirli e dire fallo. E lì erano bei tempi per i guru perché se davi un'istruzione dicevi devi farlo lo facevi e basta. Sai mia madre uno yogi sulle colline Nandi una volta andammo sulle colline Nandi e lei dimostrò la grotta dove era stata iniziata. Le aveva dato lo yogi le aveva dato un certo mantra non so chi fosse comunque e non ha mai avuto una foto o non voleva nemmeno parlarne pronunciare il suo nome ma ogni giorno faceva qualcosa con gli occhi chiusi per tutta la nostra vita noi siamo stati la sua vita sai quattro figli il marito sono la sua vita si è sposata all'età di 17 anni e questa è la sua vita ma prima di questo era stata iniziata e questo yogi le aveva detto qualunque cosa accade nella tua vita devi farlo ogni giorno ogni giorno lei faceva qualcosa con gli occhi chiusi dicevamo cosa fai? lei diceva beh questo yogi mi ha dato un mantra lo faccio e basta noi vogliamo sapere qual è il mantra così le abbiamo fatto ogni tipo di trucchetti cercato di costringerla emotivamente delicattarla dici questo mantra una persona così gentile e con cui era facile interagire lo era sempre ma non una volta qualunque cosa accadesse né a suo marito né ai suoi figli ha mai detto il mantra perché lo yogi aveva detto non condividerlo con nessuno voglio dire era così facile istruirli se dico a te tienilo per te lo metterai sui canali social quindi siccome dare istruzioni era molto efficace e semplice nelle generazioni precedenti specialmente 2500 anni fa Gautama scelse questo cammino nessuna comprensione nessun insegnamento ovviamente nessuna domanda fallo e basta solo a coloro che si raccoglievano intorno a lui che viaggiavano con lui che erano in stretta associazione con lui allora insegnò Shunya perché ha bisogno di comprensione senza portare una comprensione sostanziale quello non accadrà quindi hai optato per Vipassana questo significa che devi solo stare zitto e farla non fare questa domanda quella domanda perché quella domanda o la risposta non aggiungeranno in alcun modo nulla alla tua pratica la pratica è stata progettata in modo tale che indipendentemente da chi sei se la fai funzionerà è solo che è un po' laboriosa devi farla per ore ogni giorno per un lungo periodo di tempo ma funzionerà era uno strumento fantastico per quei tempi anche ora lo è per tante persone quindi non sprecare il tuo tempo la cosa decente da fare per te se sei qui non so dove sei se sei qui prendi delle istruzioni fallo e basta altrimenti attieni di Vipassana e falla in un modo o nell'altro fai un passo avanti piuttosto che stare nello stesso posto a guardare da tutte le parti non aggiungerà niente alla tua vita in nessun modo è solo che per stoltezza penserai di essere intelligente accumulando queste cose forse ora che ho detto ciò che ho detto andrai a dire a qualcun altro sai cosa ha detto Sadguru ecco cos'è nemmeno lui sa oppure farai la tua risposta e la metterai sui canali social qualunque cosa fai non serve a niente esistenzialmente se vuoi andare avanti devi fare qualcosa di esistenziale dentro di te fai cose psicologiche e pensi che andrai avanti non lo farai sai qual è il mio handicap vuoi saperlo? semplicemente essere diretto e onesto è il mio grande handicap sì nessuna devianza questo è il mio handicap cosa ne pensi? dimmi Sadguru non è un handicap alcuni dei miei consiglieri pensano che questo sia un handicap sono troppo diretto e schietto su troppe cose ma è così che sarò non ti piace? grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.